Ciao, io mi chiamo Aisha e arrivo da un paese lontano. Si chiama Africa. So che in questi giorni siete a casa, ma non vi preoccupate. Ho qualcosa da raccontarvi sul mio paese. Quella che vedete è la savana. Qui di solito piove pochissimo e le piante che crescono non hanno bisogno di molta acqua per sopravvivere. Qui vivono molti animali. Il leone, il re della savana. L'elefante che vive fino a 70 anni. Il leopardo, uno dei più veloci animali della savana. L'ippopotamo, attenzione però, può essere molto pericoloso se lo fate arrabbiare. Le zebre, con le loro linee bianche e miele. I facoceri, i maialini buffi con le corna, che stappano camminando all'indietro. E non dimenticate, le giraffe, con il loro collo lungo, controllano l'intera savana. In alcune città dell'Africa, si vive Nei Tukul, con le capanne rotonde costruite in pietra, con il test fatto con le foglie, l'erba o la panna. Anche le vostre case sono fatte così? E sapete cosa ci diciamo io e i miei amici quando ci incontriamo? Akuna matata, che vuol dire senza pensieri. E dopo aver indossato i nostri coloratissimi abiti tradizionali, prendiamo il tamburo e ci mettiamo a suonare. Sapete come si chiama il nostro tamburo? No, ve lo dico io. Si chiama Vongo. Ehi amici, mi è piaciuto questo breve viaggio nella mia terra? Spero proprio di sì. Ora vi saluto e vi mando un grosso abbraccio. E ricordate, Akuna matata! Grazie a tutti.